Puntando nello stesso tempo però a tenere alto il livello qualitativo dell'istruzione. L'istruzione rappresenta uno dei principali fattori di crescita economica oltre che sociale del Paese. Stime empiriche evidenziano un contributo dell'istruzione in termini di crescita del PIL tra lo 0,3 e lo 0,5. Mi pare improbabile che una politica di riduzione in tagli indiscriminati possa contribuire alla crescita economica e sociale del Paese. La UIL accetta la sfida e in tempi non sospetti ha individuato una serie di proposte utili a tutelare il potere d'acquisto delle retribuzioni che prevedono tre punti di impatto importanti. Una riduzione significativa della pressione fiscale con l'estensione del lavoratore del pubblico impiego delle misure di detassazione sul salario accessorio. Un aumento delle detrazioni fiscali ovviamente ai lavoratori dipendenti, se no facciamo l'imbroglio della volta scorsa. E' una lotta seria ed immediata all'evasione fiscale. Esiste poi una questione meridionale che merita grande attenzione. La crescita del Paese in termini di aumento della ricchezza nazionale non può che passare attraverso la crescita economica delle regioni del Sud. E' importante. Lo sciagurato disegno di legge devolution che fortunatamente fu bocciato dagli italiani avrebbe comportato una sostanziale riduzione delle risorse da trasferire al Sud dal 46 al 27% con un parallelo incremento di quelle del Nord dal 54 al 72%. Se fossero queste le scelte poste alla base del federalismo fiscale, auspicate dai leghisti, si profilerebbe una fase di aperto scontro con le parti sociali. Nel caso della scuola poi, gli stipendi dovrebbero essere pagati dalle regioni. Un'inutile partita di giro, un altrettanto inutile aggravio di costi, oltre che uno smembramento del sistema di istruzione, affidato alla gestione delle regioni. Cioè la politica entra nella scuola. Addirittura c'è chi rivendica competenze in capo ai singoli comuni. Si continua a ritenere la scuola e l'istruzione un mero servizio a domande individuali, lì dove appoggiare i bambini. Dimenticando che siamo in presenza di una funzione fondamentale dello Stato. E come tale non può essere delegata al pari della giustizia, dell'ordine pubblico e della difesa dall'esterno. I diritti fondamentali, come quello all'istruzione, devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Nel rispetto dei principi di uguaglianza, solidarietà, di cui lo Stato deve farsi garante. Garante. Occorre per questo garantire e salvaguardare il carattere nazionale della scuola. Bisogna inoltre da subito garantire il massimo del potere di acquisto delle retribuzioni. Intervenire con immediatezza per effettuare la sterilizzazione delle aliquote fiscali di alcune tariffe aumentate dalle rispettive autoriti. Agire analogamente sul prezzo del petrolio per ridurre i prezzi dei beni di prima necessità. Ed esentare dalle tasse gli aumenti contrattuali per un congruo periodo di tempo. Così si stimola la domanda interna di consumi. Quindi è un fatto che avvia una fase economica importante. A tal riguardo si segnala la necessità di rilanciare una nuova politica dei redditi da concertare con le parti sociali. L'occasione costituita dal rinnovo del contratto di lavoro dei lavoratori della scuola non deve essere l'ennesima occasione perduta per riequilibrare il livello delle retribuzioni. Per fare questo la Will Scuola accetta la sfida di contribuire alla definizione e anche di nuovi parametri da assumere per la valutazione. Non è un tabù, non ci fa paura. La valutazione del lavoro per il comparto e di attuare politiche contrattuali di incentivi e di aumenti anche se va sottolineato che non è possibile fare valutazioni che siano omologhe per le altre professionalità del pubblico impiego. occorrerà quindi esaltare la specificità del settore che non può esaurirsi in una valutazione monocratica per la natura stessa della prestazione, specie del personale docente. Cioè chi sta nella scuola lo capisce. Occorrono soluzioni nuove, non riconducibili a metodi del passato ma con una sola certezza, e la Will è certa, il lavoro d'aula è quello che deve fare la differenza. Progetti e progettifici hanno mostrato la loro inconsistenza e molte volte hanno incentivato le attività fuori dalle attività di insegnamento senza o con scarsa ricaduta sulla preparazione degli alunni. In presenza di tali mutati scenari anche e soprattutto il sindacato deve mostrare disponibilità ad operare nuove strategie di intervento. deve partecipare elaborando proprie proposte con un'ottica, l'ottica dell'innovazione e non della conservazione attraverso il confronto aperto con tutti, con il governo guardando al merito delle proposte rifiutando di barricarsi su posizioni ideologiche di quanti vorrebbero condurre l'intera legislatura su posizioni di mera contrapposizione. I problemi del comparto. Il ruolo del sindacato nel settore pubblico ha ormai sperimentato una rivoluzione nei rapporti contrattuali. Quando sentiremo la relazione del professor Ricciardi che ce l'ha insegnata, questa cosa ci farà capire molto bene come è cambiata la fisionomia e come sta cambiando. Sin dal 1993 il decreto legislativo 29 ideato ed attuato dal compianto Massimo D'Antona ha registrato in Italia un raro esempio di riformismo vero. Ha avuto il merito di avvicinare il settore pubblico a quello privato. Ora si dovrebbe completare quel processo anche alla luce della modifica del modello contrattuale che, superati gli accordi del 1993, attualmente in fase di discussione tra sindacati e confindustria, dovrebbe approdare a un modello nuovo condiviso. Quell'accordo non può che essere valido sia per il settore privato che per quello pubblico. E i lavoratori della scuola devono essere a pieno titolo inseriti nel mondo del lavoro e non come vorrebbe il progetto Aprea relegati in un modello neocorporativo fuori da qualunque forma di contrattazione. Un progetto questo che se effettivamente fosse approvato segnerebbe un anacronistico ritorno al passato ci riporterebbe indietro di 40 anni. È necessario invece attivare un sistema contrattuale più spinto sulla contrattazione decentrata, unica forma contrattuale che incida sui processi organizzativi e per questo stesso in grado di operare le necessarie tutelle individuali anche di natura professionale. Qui dobbiamo rilanciare il sindacato professionale. Con la contrattazione decentrata si incrementa anche la produttività del sistema. Ovviamente occorrono risorse economiche aggiuntive che puntino anche a premiare il merito. Il contratto collettivo nazionale di lavoro insieme ad una politica di defiscalizzazione di parte della retribuzione dovrà invece essere finalizzato alla difesa del potere d'acquisto delle retribuzioni. Come abbiamo detto, sono erose giorno per giorno. Sui processi di riforma il metodo della concertazione rappresenta l'unico modo per governare nel rispetto dei ruoli il necessario cambiamento che può avere effetti positivi solo se il personale si sentirà coinvolto e condividerà quel processo di innovazione. Non certo se sarà destinatario di un decreto legge che gli sconvolge l'organizzazione del lavoro come si vorrebbe fare con la reintroduzione del maestro unico nella scuola primaria. La stessa pratica operata da ogni governo quella dei tagli non se ne può più. Cambiano i governi ma la musica è la stessa politiche tutte improntate ad un'unica logica quella dei tagli agli organici i docenti e Ata siamo passati da meno 33.000 del ministro Moratti ai meno 33.000 del ministro Fioroni è un numero che si ripete anche se poi è riuscito a fare per una sola annualità perché è caduto il governo per arrivare al botto finale oltre 100.000 del duo Tremonti-Gelmine se esiste come esiste l'esigenza di razionalizzare la spesa del comparto scuola attraverso una serie di interventi anche descritti nel decreto legge 112 è assolutamente anomalo che se ne discuta a prescindere a prescindere da ogni contesto di qualità il nuovo esecutivo così come il vecchio per la verità vorrebbe condurre un'operazione così complessa nel chiuso delle stanze dei ministeri prescrivendo l'amara ricetta ai direttori regionali talvolta questi rincarnono la dose e la fanno ingurgitare attraverso il metodo dei tetti di spesa che non verificano né fattibilità né tantomeno qualità perché si fanno dei tetti senza aver fatto una valutazione sulla fattibilità siamo usciti da una stagione di tagli sono dieci anni e pensavamo di aver dimostrato abbondantemente che i livelli raggiunti non potevano essere suscettibili che di semplici ritocchi dettati da fatti oggettivi la diminuzione degli alunni scopriamo oggi che invece il prossimo triennio sarà condotto prevalentemente all'insegna di un'unica parola d'ordine taglio agli organici la lettura del decreto legge 112 prontamente convertito non lascia spazi a dubbi senza poi contare i ripetuti attacchi mediatici ove il ministro Gelmini è chiamato a dare prova di fedeltà e lealtà a questo governo rivoluzionario dovendo agitare lo scalpo di centinaia e di migliaia di docenti e di ATA e si mentosi poi da chiedere anche un euro per gli aumenti contrattuali se le premesse sono queste c'è assolutamente da essere preoccupati diremo poi delle incursioni di campo nella materia contrattuale ma una domanda ci agita e ci inquieta quale ruolo viene lasciato alla contrattazione quali spazi residuano alle forze sociali se non quelli di prendere atto delle decisioni assunte nelle sedi politiche nelle scarne occasioni di confronto prevale la logica della semplice informazione per poi concludere in caso di dissenso con minacce nemmeno tanto velate e con la massima ormai trita del decide chi ha la maggioranza una visione miope politica molto miope e non in linea con le regole che governano le moderne democrazie di cui crediamo a ragione di far parte queste ritorno al passato oltre che le regole non condivise determinano una cattiva e conflittuale realizzazione delle stesse grandi diseconomie temporali ed economiche e fatalmente una ricaduta in grado di frustrare gli intendimenti che si erano prefisse se la proposta politica per il miglioramento del comparto fonda sull'unica idea che è quella dei tagli al personale anziché sulla valorizzazione del personale si può fin d'ora concludere che è tutto abbastanza inutile e che dieci e più anni di ricontrazione di personale non hanno portato alcun risultato utile non hanno insegnato nulla allora in assenza di una proposta articolata che tocchi il merito dei punti controversi non possiamo che concludere di essere in presenza di un attacco che ha un solo obiettivo risparmiare risparmiare ancora risparmiare su cui non ci può essere alcun elemento di coinvolgimento delle forze sociali se è questa l'unica logica si profila un triennio tutto teso a confutare tabelle dimagranti che il ministero di direttori generali se questa è la linea politica del governo rivoluzionario incentrato sull'asse di ferro Berlusconi Tremonti Bossi non ci resta che inizia da subito a mettere in campo i giusti dimedi che politica è quella che parte dai tetti di spesa senza valutare le esigenze delle migliaia di insegnanti e data di milioni di studenti che per il 94% vi ricordo frequentano la scuola statale che rivendicano il miglioramento della qualità dell'istruzione adeguati strumenti per lavorare i docenti e gli altri le rivendichiamo aspirano a vedere catalogata i lavoratori della scuola l'istruzione tra i settori produttivi del paese in grado di sollevarlo dalla stagnazione attuale non assisteremo impotente agli ulteriori errori del passato che hanno condannato non solo la scuola italiana ma l'intera società ad una lunga fase di declino da cui non si travede la via d'uscita l'Italia è uno dei paesi che investe meno nell'istruzione spende il 4,4% del PIL rispetto al 5,1% della media di attenzione di attenzione